L'intervista al mister è offerta da... RMC, buongiorno. Eh, sono Rossi, eh. Ho un problema con l'escavador. Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra. Eh, ma... ma fai che portare? Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali. Da boh? E se vuoi cambiare? Siamo concessionari Yanmar, Itachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati. Allora, ho fatto bollice e merlo. RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com Eccoci qua, grazie Andrea per la linea. Siamo con mister Rossini. È una partita in cui avevo decisamente paura, perché erano due settimane senza aver giocato. Una squadra che doveva per forza rimettere in condizione alcuni giocatori che era tanto tempo che non giocavano. Una squadra che per il problema improvviso di Napoletano ha dovuto far giocare a Bertone, un titolare che non giocava da un girone. Una squadra che ha cambiato sistema di gioco. Insomma, c'erano delle problematiche, oltre che il club Milano, lo dicono in pochi, ma fa più punti fuori casa che in casa. Insomma, c'erano tante problematiche che nel primo tempo, nonostante l'1-0, secondo me si sono viste. No, devo fare un complimento ai ragazzi, perché hanno interpretato molto bene la gara. Noi siamo partiti bene. Poi abbiamo fatto anche delle buone trame all'inizio, poi dopo siamo un po' calati dalla metà del primo tempo alla fine del primo tempo. Quello sì, però ci stava, perché l'hai detto tu. C'erano un po' di situazioni un po' diverse. Erano, io dico, tre settimane, perché poi dopo c'era anche quella lì, questa qui, che portava alla gara. E quindi un po' di ruggine c'era. C'erano qualche giocatore che era la prima partita che faceva. E si è anche comportato bene Bertone. Quindi è normale che abbiamo trovato qualche difficoltà in quello. Poi al secondo tempo siamo usciti bene. Quindi bravi ragazzi. Secondo tempo, subito si è visto un'altra squadra. Anche se hai lasciato gli stessi undici. Poi da quando è entrato Bassanini, hai tolto Doie che secondo me oggi non ha avuto la personalità giusta per provare a fare le giocate che lui sa fare. Non so se sei d'accordo su questo. Sì, no, vabbè. Mussa poi dopo l'abbiamo messo anche a sinistra, che magari lui ha più predisposizione a giocare dall'altra parte. Ho fatto questa scelta perché in questo momento Carnezzo sta molto bene. Quindi ho preferito tenere lui nella posizione che predilige. Però Mussa ha fatto comunque quello che doveva fare e l'ha fatto anche bene. Quindi siamo contenti. Senti Stefano, com'è nato questo 4-3-3? Che ricordiamoci è il modulo con cui in teoria è nata la squadra, che poi tu correttamente non l'hai più fatto perché con D'Agostino diventa più complicato farlo. Com'è nata questa voglia di… Ma non è che 4-3-3, noi abbiamo fatto una cosa diversa, ma non 4-3-3. Noi abbiamo impostato in maniera diversa perché noi prima facciamo 2-3, invece abbiamo fatto 3-2 per avere un po' più di… Abbiamo lavorato su questo anche in queste tre settimane per avere un po' più di densità nel momento in cui magari perdi palla. Poi dopo abbiamo fatto in fase di non possesso, invece che mandare, diciamo così, le due punte di solito che vanno sui due centrali o sui tre indipendenti. Abbiamo fatto uno che… ma quello si può fare anche… si può fare lo stesso anche se giochi 4-4-2, nel senso che il D'Agostino della situazione invece che andare sul centrale mi viene sul play. No, abbiamo fatto questo che poi di diverso, che poi non è tanto diverso perché l'abbiamo lavorato anche durante le settimane scorse, voglio dire, perché noi in base a quelli che trovavamo, ecco, ci adattavamo per quello. Oggi l'abbiamo fatto proprio anche se abbiamo trovato una squadra che ci aspettava, che poi non è stato così perché siamo andati in vantaggio dopo 5 minuti, quindi è diventato tutta un'altra partita. Quindi avevamo fatto proprio questo discorso qua per cercare di tirar fuori una loro mezzala e creare più spazio dentro, ecco. Cos'è la cosa che ti è piaciuta di più lì oggi della tua squadra? La cosa che mi è piaciuta di più oggi è che i ragazzi hanno capito l'importanza di ogni gara. Io dico che di partite facili non ce n'è non una, non ce n'è mezza. Oggi avete visto i risultati, il Pro Palazzolo perde, il Caldiero ha vinto 3-2 alla fine che perdeva 2-0, partite facili non esistono, quindi loro si sono calati in questa realtà e hanno capito l'importanza della gara. In questo momento essere belli è più difficile magari perché poi ogni volta c'è sempre una partita in meno, quindi pesa sempre di più il risultato. Bassanini cosa si è fatto? Non lo so, Bassanini adesso lo dobbiamo vedere, ha sentito un dolore, non so, penso che sia un discorso muscolare o sull'opsoas o sull'addome, non lo so, bisogna capire perché ti potrei dire tante cose ma non lo sappiamo ancora. Un'ultima battuta secondo me per tutta la partita somma e si va a fare una partita eccezionale. Sì, ma sono due giocatori che sicuramente hanno qualità, hanno personalità, hanno letture, Somme e Silva non è la prima partita che fanno così. Poi dopo si tende molto a dire che uno gioca bene quando si vince, perché è più facile. Io dico che bisogna analizzare le partite indipendentemente da quando si vince e da quando si perde, quindi non sono due giocatori che non mi stupisce che facciano bene, anzi. Mercoledì? Mercoledì c'è un'altra partita, un'altra partita che non è come sento dire, ma come quella di oggi, le ultime spiagge perché poi sento sempre dire, io sono qui da 3-4 mesi, non mi ricordo neanche, ogni partita è l'ultima spiaggia, io non lo so. Adesso ne mancano 11, quindi è una partita che ha una rilevanza notevole, quello lì lo sappiamo, per l'amore del cielo, come sarà anche quella dopo, la domenica dopo. Però, voglio dire, poi ce ne sono anche altre, quindi bisogna sempre essere equilibrati, ma non solo sul campo, anche fuori dal campo. Perché poi dopo può succedere di tutto, nel bene e nel male, ma non solo noi, tutti. Grazie Stefano, linea che ritorno allo studio.